Oltre 50 anni d'abbandono. Era il 1972 quando le porte del cotonificio Bernocchi si chiusero per l'ultima volta con una liquidazione che scosse la città. Adesso finalmente è arrivata la firma per la riqualificazione dell'area. In questi giorni i proprietari che si sono divisi l'area dal via Pontida fino al confine con Castellanza, occupata una volta dal cotonificio Cantoni e dalla tintoria Mottana hanno trovato l'accordo per rendere attuativo il progetto che già era stato ipotizzato nel 2020 con l'amministrazione Cirelli. Ci vorranno 10 anni per restituire futuro a quest'area. Nell'idea c'è un parco fluviale, ci sono negozi, ci sono uffici e naturalmente appartamenti. Bisognerà però aspettare almeno il 2030 perché Legnano possa riappropriarsi di quest'area.